È una sconfitta che è capitata dopo in campionato due risultati comunque positivi, il pareggio con Monza e la vittoria a La Venna. È una sconfitta che per il gioco che comunque abbiamo espresso, la quantità di occasioni che abbiamo creato non ci voleva, però adesso è una partita che è passata, dobbiamo pensare già subito a domenica alla partita con la Binolè F a Bergamo perché inizia un periodo duro dove all'andata abbiamo raccolto poco, molto meno di quello che avremmo dovuto raccogliere, cosa che in questo giro di ritorno non possiamo fare perché adesso ci giochiamo tanto, ci giochiamo tutto, quindi dobbiamo pensare alle prossime partite, ormai la partita con la Fermana è andata. È un ruolo dove ormai mi sto trovando bene, sto trovando continuità, credo anche nelle prestazioni, ma ripeto, come avevo già detto altre volte, grazie anche ai miei compagni perché se lavoriamo bene in settimana e riusciamo a trovare certi automatismi in difesa e nella linea è merito di tutti. Poi purtroppo i gol nelle partite non ci premiano tutto il lavoro che facciamo in settimana, questo vuol dire che dobbiamo lavorare di più, dobbiamo lavorare meglio perché subiamo gol, anche a Ravenna su un 3-0, un uomo in più, abbiamo subito gol e non va bene perché chiudere una partita senza subire gol da morale, da morale alla difesa, da morale al portiere, quindi dobbiamo migliorare, però stiamo lavorando bene. Penso che dobbiamo giocare come sappiamo, dobbiamo mantenere la nostra identità, dobbiamo, come dice il mister, avere consapevolezza di quello che siamo e di quello che possiamo fare, quindi penso che dobbiamo pensare prima a noi, a ricominciare a giocare come sappiamo, come abbiamo fatto con la fermana, a continuare con il nostro stile di gioco, e andare lì per far bene, per portarvi a punti, i tre punti perché sono importanti, sono tre punti che penso possano valere doppio perché è una diretta concorrente, quindi fai tre punti in avanti e lasci loro più indietro, però quindi dobbiamo andare lì convinti, convinti di far risultato con l'aiuto di tutti, nostro, della società, del pubblico, che ne abbiamo tanto bisogno, quindi dobbiamo andare là convinti. Grazie.